Nuove sensazioni dell'abitare, nuovi criteri di estetica, nasce Phil, la nuova collezione sviluppata dalla ricerca Cesar per realizzare tutti i sogni di te che cerchi l'avanguardia nelle soluzioni d'arredamento contemporanei. Phil è l'espressione di nuovi ed innovativi concetti che anticipano le tendenze e le fanno affermare nella moda e nel design. L'eleganza è lo stile di un prodotto innovativo ed unico nel suo genere, concepito per te che ami stare al passo con i tempi. Prova con Phil il benessere di vivere in un ambiente accogliente, pensato e realizzato su misura per te, per soddisfare tutte le tue esigenze. Prova l'esperienza di vivere con gusto, circondandoti delle cose che ami. Phil è libertà di espressione per tutti coloro che amano vivere e progettare all'insegna del design più modello. Con la tranquillità di poter contare su un prodotto forte e resistente. Phil è tutto questo, un prodotto semplicemente tuo, pensato per te, perché rispecchia il tuo modo di essere, vivere ed immaginare gli ambienti.